Buon primo maggio. Buon primo maggio a tutti i lavoratori del mare e dei porti. Uomini e donne, al cui fianco ogni giorno operano gli uomini e le donne delle Capitanerie di Porto. Un lavoro importante a sostegno di uno dei settori strategici del nostro Paese. Tante sono le navi italiane e gli equipaggi che in questi mesi siamo riusciti a riportare nei nostri porti, grazie al forte e determinante impegno della nostra Ministra, la Ministra De Micheli. Ma un pensiero particolare va a quei tanti marittimi ancora a bordo delle navi in attesa di ritornare alle loro famiglie e ai loro affetti. Un lavoro duro, impegnativo e necessario quello della gente di mare. Un lavoro a sostegno del nostro Paese. Il 90% delle merci viene importato via mare e senza questa importante attività, specialmente in periodi come questo, un periodo di emergenza, non avremmo accesso neanche ai beni di prima necessità. A tutti coloro che trascorrono la propria vita lontano dagli affetti in questi giorni così difficili, va il nostro pensiero, va la nostra vicinanza. A loro voglio ricordare che gli uomini e le donne delle capitanerie di Porto sono al loro fianco e lo sono ancora di più in questi giorni. Un poeta del secolo scorso così declamava Sono marinaio, è mio questo primo maggio. Con coraggio e ardore superiamo le difficoltà. Sono questi versi ancora più attuali oggi. Fra poco, a mezzogiorno, le navi presenti nei nostri porti suoneranno le sirene, così come lo faranno le nostre unità. Un segno di vicinanza ai lavoratori del mare e dei porti. Un segno di solidarietà in un momento complicato come questo, in cui ognuno ancora di più ha bisogno degli altri e nessuno deve rimanere indietro. Buon primo maggio a tutti voi. Grazie a tutti.